Si gira finalmente pagina la Teramo Ambiente, la partecipata al 51% dal Comune di Teramo che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Dopo ricorsi e contro ricorse, il Tribunale di Venezia ha assegnato il 49% delle quote della Team al socio privato Comir di Stefano Gavioli. Nell'attesa il sindaco Gian Guido d'Alberto aveva già sostituito l'ex presidente Pietro Bozzelli, nominando presidente Luca Ranalli. Oggi anche il vecchio amministratore delegato Pietro Pelagatti ha rassegnato le sue dimissioni. Lunedì prossimo l'Assemblea nominerà il nuovo AD e Gavioli arriva in città per fare visita al sindaco. Un primo incontro che servirà a fare il punto della situazione, primissima valutazione, valutare e definire anche i contenuti dell'Assemblea che come sapete è stata convocata per lunedì 25 e affrontare i grandi temi che riguardano la nostra più importante partecipata e avviare un percorso che è relativo a questa nuova fase che dovrà portarci ad uscire da un video che sapete bene è quello che abbiamo descritto e raccontato in questi mesi. In un momento dedicato della Terramo Ambiente che però sul piano dei contenuti, dei risultati sta producendo qualcosa, quantomeno sul piano della scelta amministrativa e della volontà, dell'obiettivo di ridurre la Tari. Avete visto anche i numeri, i dati pubblicati da Cittadinanza Attiva. Il Comune di Terramo è l'unico comune che va in diminuzione per quanto riguarda la Tari, gestita dalla Terramo Ambiente, circa il 10% è così come avevamo annunciato, promesso, voluto e oggi attuato. Quindi insomma ci sono degli spirali, degli aspetti positivi su cui poter lavorare e dare un futuro alla Terramo Ambiente, sui lavoratori nell'ottica però duplice di tutelare l'interesse dei nostri cittadini che in questi anni, e lo dirò chiaramente al dottor Gavioli, hanno pagato in termini di gestione della Terramo Ambiente un prezzo altissimo, un prezzo politico altissimo, l'ho sempre dichiarato e l'ho sempre detto, e a tutela anche ovviamente soprattutto dei lavoratori, delle famiglie, dei nostri lavoratori che per troppo tempo sono rimasti in attesa di vedere un percorso che oggi siamo chiamati a definire. Comune e Comir cominciano dunque a dialogare sul futuro della Terramo Ambiente e promettono di dare l'avvio ad un piano industriale di investimenti che possa rilanciare a pieno l'azienda.